buonasera buonasera a tutti per questo nuovo evento del laboratorio di pop mat ricordo che anche quest'oggi l'intervento è registrato quindi ricordo per chi non avesse piacere di essere registrato semplicemente di togliere il video o il microfono per le persone che volessero fare domande liberamente durante il durante l'intervento io controllerò la chat o eventualmente se ci fosse qualche uno si può anche eventualmente togliere il microfono comunque lo gestirò lo gestiremo così per chi invece non avesse piacere essere registrato comunque sia alla fine della registrazione prima di chiudere il nostro pomeriggio la nostra serata assieme lasceremo un momento a registrazione spente in modo da avere un dialogo eventualmente più più libero se qualcuno volesse quindi senza perdere troppo altro tempo lascio la parola a claudio per per l'introduzione del nostro relatore di oggi grazie alessandro benvenuto a tutti e benvenuto soprattutto a massimo mazzotti siamo felici di avere qui con noi massimo è collegato da betle in california dove insegna l'università si è laureato a milano ha fatto il dottorato a edimburgo in sociologia della scienza i suoi interessi sono molto ampi e direi a cavallo soprattutto fra storia della scienza storia della matematica e sociologia della scienza si è occupato di vari autori anche autori contemporanei ha una serie di articoli molto interessanti anche sul newtonianesimo in italia su algarotti insomma trovate dei suoi lavori disponibili fra l'altro su accademia quindi se siete curiosi potete andare a scaricarli a curiosare però ecco oggi si parla di uno uno degli argomenti di cui il massimo esperto mondiale la figura di maria gaetanagnesi a cui ha dedicato un libro molto importante scritto in inglese alcuni anni fa che però è stato ripubblicato credo anche rimaneggiato in parte noi in italiano quest'anno per i tipi di carocci se volete vi leggo il titolo esatto che dunque maria gaetanagnesi e il suo mondo una vita tra scienza e carità appunto caro ceditore e appunto baria gaetanagnesi è l'argomento anche del suo intervento di oggi quindi non non gli rubo altro tempo e gli lascio subito la parola grazie massimo prego grazie claudio grazie molte per l'invito è proprio un piacere essere qui e conoscere questo gruppo di cui conosco qualcuno ma non 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 tutti e e anche avere un'opportunità di appunto di raccontare un po la storia di agnesi che è tornata prepotentemente nella mia vita dopo un periodo in cui in realtà mi sto in un periodo mi sto occupando di altre cose primariamente però a causa dell'anniversario che c'è stato l'anno scorso 1718 era la nascita di agnesi si è messo in moto una serie di iniziative di riscoperta di questa figura soprattutto a milano e devo dire una delle cose più interessanti è stata una serie di iniziative teatrali che quindi hanno ricostruito la vicenda di agnesi ovviamente di una chiave molto particolare però ho contribuito per come potevo da consulente e questa cosa è stata molto interessante poi la traduzione del libro ha fatto sì che appunto ci fossero una serie di presentazioni simili a questa poi ovviamente con diversi punti di interesse a seconda dei diversi gruppi però ecco è stato interessante dopo vari anni in cui non mi occupavo più di questa figura tornare e anche rilavorarci perché le sulla traduzione come diceva claudio abbiamo fatto qualche 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 cambiamento in parte sono cose che hanno a che fare col fatto che mi sono reso sempre più conto di come ci sia un network molto ampio intorno ad agnesi no per cui che già lo segnalavo nella nella storia iniziale però riconoscere sempre più pattern simili di altre vicende connessioni questo è successo poi nel corso degli anni successivi quindi anche questo aspetto più sistemico mi sembra interessante quindi muoversi dalla vicenda eccezione a sicuramente eccezionale e isolata e riconoscere invece dei tratti che poi si ritrovano in tante storie apparentemente scollegate che però hanno a che fare con bambine prodigio donne che entrano in maniera diciamo non ufficiale anche perché una via ufficiale non c'era di entrare nelle istituzioni scientifiche del tempo e quindi sono che poi e poi c'è una serie di studiosi molto importanti tra cui marta cavazza che ha pubblicato recentemente una collezione di saggi che voglio segnalare perché è una collezione molto importante che raccoglie il lavoro di marta negli ultimi decenni e lei è stata veramente una pioniera nello studio dell'ambiente bolognese in cui alcune figure di donne sono molto visibili e più in generale dell'illuminismo italiano in questa fase iniziale di marsili dell'accademia delle scienze la storia di quel momento e la complessità del delle scatole istituzionali tra istituto delle scienze accademia delle scienze l'università bologna questo marta direi che è stata un po la maestra di quel genere di studi e poi menziono anche già che siamo qui un la traduzione di rebecca messbarger su la manzolini una 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 sempre a bologna che lavora con la cera che fa questi modelli di cera di organi biologici quindi organi del corpo umano soprattutto relativi allo studio della medicina e anche lei è un'altra di queste filosofesse come erano chiamate a volta all'epoca che emerge nel 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 settecento e poi ha una sua carriera nella seconda metà del settecento quindi in questo momento devo dire per chi è interessato e per chi soprattutto vuole insegnare magari un corso in cui ci sono un po di di queste vicende ci sono dei testi importanti utili da cui si possono prendere capitoli pezzi e cosa che non c'era fino a non molto tempo fa e quindi ecco segnalo questa cosa perché diventano più accessibili anche come materiale didattico ok quindi tornando alla invece alla storia di agnesi faccio un piccolo preambolo che che facevo anche nel libro in realtà chi è agnesi giusto per inquadrare una figura che sicuramente non è nota eh ai più e e anche neanche più di tanto agli storici della scienza se non per il nome no l'associazione a questo libro che pubblica nel mille settecento quarantotto che è il primo libro di matematica pubblicato da una donna con il suo nome sulla 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 pagina iniziale ehm però è sempre stata una figura che ha fluttuato un po in un nel nulla no fortemente decontestualizzata e eh una curiosità no che a volte veniva messa in nota in qualche storia della matematica eh parte della difficoltà di ricostruire questa la biografia di questa donna ha a che fare col fatto che è una biografia che a lungo tempo è stata sdoppiata come come se fossero due donne separate una ha avuto una vita all'interno del dell'apologia cattolica e quindi una una donna che si è impegnata molto nel mondo della carità a Milano nel settecento che è stata una figura importante in quel mondo perché è stata direttrice del Pio Albergo Tribulzio che proprio nel negli anni sessanta settanta viene costituito grazie all'ascito del principe Tribulzio ehm e quindi una figura centrale perché il il direttore del Pio Albergo Tribulzio lei era reparto femminile poi c'era un reparto maschile eh però è una figura che si interfaccia con il governatore con l'arcivescovo la triangolazione che tiene in piedi Milano nel settecento no? Cioè c'è il governatore austriaco l'arcivescovo e il senato no? E l'aristocrazia e il Pio Albergo Tribulzio è un centro di anche di business importante un centro che ha molta rilevanza economica nella nella dimensione milanese quindi capiamo che lei ha ha è una figura molto rilevante in quella storia no? In quella storia lei è una 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 donna devota di di devozione molto intensa eh pratiche quotidiane di meditazione in una serie di chiese eh costruisce tutti dei percorsi nella zona in cui abita che sarebbe la zona di Porta Romana Milano e lei ehm per tutta la sua vita fin da quando è bambina ha un tutta una serie di pratiche anche ascetiche ehm diciamo al di fuori dell'ordinario ecco ehm e lascia tracce di questo ci sono dei manoscritti in cui lei per esempio dà istruzioni a chi ne sia interessato su come prepararsi per la meditazione come affrontare un particolare tipo di meditazione che le interessa molto che è la meditazione su sui misteri della passione di Cristo una cosa abbastanza diffusa come come pratica in in quell'epoca in epoca barocca e anche e anche settecento e in cui lei affronta appunto una sequenza di passaggi no? Le stazioni in maniera ehm non direi mistica ma proprio ascetica nel senso di separarsi dal il più possibile dalla realtà materiale per potersi concentrare sul significato di questi vari momenti della fase finale della vita di Cristo no? Quindi c'è tutta questa questa sua dimensione che è preponderante in realtà in termini di eh di tempo no? Di come lei vive la sua giornata di come divide la sua giornata e io menziono quando racconto questa storia che io da da bambino senza sapere che fosse ma questa figura ne sapevo qualcosa perché nelle chiese di quel quartiere c'erano dei riferimenti a questa donna eh caritatevole che aveva che era vissuta in quartiere che aveva eh era stata una figura importante no? Della chiesa. Ecco quindi questa è è è stata una parte eh l'altra biografia è quella della storica della matematica quindi una appunto una una donna che comunque ha una una sorta di primato nel termine della pubblicazione che viene invitata a eh insegnare all'università di Bologna mh un paio d'anni dopo la pubblicazione del suo libro quindi siamo verso il mille settecentocinquanta c'è un diploma tra i suoi documenti che le viene mandato da Bologna in cui il senato dell'università la invita come elettrice onoraria all'università di matematica. Lei non ci andrà per motivi che poi se volete vediamo ehm però è veramente eh anche questo probabilmente un primato nel senso di una donna invitata a insegnare matematica in un'università europea. Quindi eh quest'altra Agnesi eroina del se volete dell'illuminismo a volte vista in questo modo viene poi a tornando a quello che si diceva prima riscoperta da un femminismo cattolico di di fino ottocento che in realtà fa una buona una buona operazione di di ricostruzione di del mondo di questa donna e di chi è questa donna in una chiave eh ovviamente eh relativa agli interessi di quel gruppo in quel momento no? Eh quindi l'eroina cattolica che a volte viene anche in ehm eh l'eroina cattolica in quel momento si congiunge con eh con la figura della storica della matematica però ci sono un po' di di tensioni perché a fine ottocento eh ci sono storici della matematica tipo Gino Loria che quando interpellati su questo tema dicono beh ma sì però le donne sappiamo che non possono essere creatori originali in matematica quindi evidentemente è una curiosità è una divulgatrice però non e questa cosa la si ritrova un po' eh tra durante l'ottocento direi c'è tutta una sorta di eh ridurre Agnesi a qualcuno che aveva probabilmente pagato un tutore per scrivere un libro a nome suo molto interessante questa sorta di perdita di credibilità di Agnesi non quando è in vita ma ma nel secolo successivo perché è difficile tenere in piedi insieme quelle due identità no? Una una delle uno storico ottocentesco la definisce un enigma un enigma psicologico perché com'è possibile che queste due identità coesistano alla stessa persona? Quindi ehm questo era un po' il punto di partenza nel novecento per cui viene lasciata lì un po' così come una cosa complicata in cui ci sono queste due metà che non non si connettono l'una con l'altra e fondamentalmente non si connettono perché perché da quel momento in poi la si guarda con le lenti del del positivismo tardo ottocentesco cioè e quindi si suppone che se si stiamo se stiamo parlando di matematica e di scienza non stiamo parlando di fede di religione e della vita spirituale sono due cose completamente separate questo non è il diciamo questa disavventura storiografica no? Questa divisione col coltello non è ovviamente limitata da Agnesi è solo un esempio forse abbastanza estremo però qualunque filosofo della prima età moderna eh si fa fatica spesso a rimetterne insieme le componenti religiosa e scientifica se lo si guarda attraverso quelle lenti dicotomiche no? Di di della guerra tra religione e e fede che è così popolare a cavallo del tra otto e novecento quindi ecco eh spostarsi da questa prospettiva che per così tanto tempo ha in qualche maniera bloccato lo i tentativi storiografici di capire esattamente cosa sta succedendo perché mai una donna milanese debba essere interessata a pubblicare un libro di calcolo infinitesimale che è una cosa veramente ehm poco comprensibile ehm per una serie di motivi tra cui che a Milano non gli importava nulla nessuno in quel momento del calcolo infinitesimale praticamente Agnesi e altre due persone erano gli unici che sapevano cosa fosse a Milano eh e il fatto che non era affatto comune per una donna anche di un certo livello sociale entrare in questo genere di studi c'erano donne che informalmente ricevevano un'educazione anche di alto livello ma non in in ambito matematico per esempio e e non con l'obiettivo di scrivere un libro di quel genere quindi ecco il problema delle due identità e una serie di domande che secondo me erano molto interessanti a me incuriosivano eh mi hanno portato a a vedere di se e come rimettere insieme queste queste biografie slegate faccio un brevissimo inciso sul problema delle biografie slegate pensiamo a Newton eh e alla e alla difficile processo attraverso il quale si è recuperato il Newton alchimista e studioso della Bibbia no ci sono avuti veramente due secoli di di essenzialmente con un rifiuto costante di prendere sul serio tutti quei manoscritti che non fossero la meccanica celeste la matematica la fisica e così via eh direi che qui stiamo rivedendo un po' quel fenomeno in scala minore anche in termini di 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 materiali di cui stiamo parlando eh però è un è un fenomeno piuttosto simile ehm relativo al un altro elemento di cornice è che siccome siamo ecco mentre per Newton abbiamo una larga quantità di di manoscritti e questo bellissimo Newton project che poi li ha resi tutti disponibili per Agnesi c'è veramente poco e questo è un fatto è un fenomeno che si verifica spesso con donne e altre figure concepite come marginali alla storia della scienza principale e stavo parlando in recentemente in un in un convegno su donne scienziate e mi dicevano altri colleghi che ehm ancora nel novecento certi diciamo archivi di alcune donne scienziate del settecento sono dispersi perché comunque non c'è un'idea che sia che sia un qualcosa è una cosa è una questione di lettere familiari ecco ricadono nella nella categoria lettere familiari non ricadono nella categoria anche il modo in cui sono archiviate nei vari archivi italiani si fa spesso fatica a trovare materiali relativi a una donna filosofa scienziata anche se esistono perché di solito non sono categorizzati sotto scienza o matematica sono categorizzati sotto lettere a lettere personali e quindi quello è già un interessante modo di in cui noi riorganizziamo no i materiali del passato per cui certe cose sono scienza altre invece ma non so era una curiosità di questa donna che non può essere uno scienziato e quindi le categorie quindi c'è una i materiali sfuggono sfuggono sia per motivi motivi di distruzione di dispersione ma anche proprio perché non vengono catalogati nel modo giusto e noi nell'età dei big data sappiamo bene che se una cosa non è catalogata nel modo giusto poi non la recuperi più in molti in molti casi o diventa molto difficile recuperarla i documenti che mi hanno aiutato di più quindi non erano documenti direttamente relativi ad Agnesi sì lei ci sono alcune sue carte all'Ambrogiana di Milano lei è connessa all'Ambrogiana di Milano c'è un suo busto all'Ambrogiana di Milano perché lei è praticamente uno dei degli specialisti che lavorano in quella biblioteca e quindi come un paio di altre donne è ricordata come una studiosa che ha lavorato in biblioteca ovviamente l'Ambrogiana di Milano dipende dall'Arcivescovo di Milano quindi è un ambiente di cui Agnesi è parte però ecco quello che si può estrarre da lì è interessante ma relativamente limitato per quanto riguarda la sua vita come perché come si interessi a certe cose mentre invece ho trovato molto utile un'altra serie di documenti in archivio di stato vi faccio una breve nota metodologica che hanno a che fare con la situazione economica finanziaria della famiglia quindi documenti meno esaltanti dal punto di vista come appaiono però leggendoli sono veramente tanti e c'è veramente una ricostruzione completa del palazzo di questa famiglia a Milano di come era organizzata la vita in questo palazzo di cosa c'era in questa casa quindi quello è bellissimo quando uno sta studiando qualcuno e trovi una lista di tutte le cose che c'erano in casa di questa persona dai libri alla cucina è un bel momento e quindi andare attraverso questa lista era far riapparire riemergere il palazzo di questa di questa donna e lei che si muove in questo palazzo perché c'erano questi documenti perché la famiglia va in rovina economica e ci sono delle cause giudiziarie quindi la tutto il contenuto della casa deve essere venduto allora tutto il contenuto della casa viene catalogato e prezzato da una serie di notai ci vuole ci vuole un mese per farlo e questi rotoli poi vengono messi vengono dati ovviamente al notaio quindi questi documenti sono sopravvivono molto più di più no perché hanno una rilevanza finanziaria per gli eredi poi c'è tutta una serie di i testamenti no rimangono rilevanti per molto tempo e quindi quelli sono sopravvissuti allora attraverso quei documenti capire cosa sta succedendo in questo palazzo per il momento la chiudo qui dico solo un modo in cui ho fatto uso di questi materiali era capire le condizioni di possibilità in cui questa donna si muoveva cioè quali erano gli spazi che lei poteva utilizzare per studiare essere riconosciuta come come credibile in matematica questo è un punto che a me interessava molto perché non è affatto ovvio no e appunto attraverso questi questi materiali penso di avere trovato alcune almeno alcune risposte a a queste domande brevemente una vi do un quadro di cosa succedeva in questo palazzo Agnesi quando Agnesi si esibiva perché effettivamente sono delle performance che succede che accadevano in alcune serate per un certo periodo anche in maniera abbastanza frequente e la struttura era più o meno questa c'era Agnesi c'era la sorella che era una musicista e diventerà una musicista piuttosto nota una compositrice un'autrice una è una musicista quindi con la sorella la sorella creava degli intermezzi musicali in all'inizio a metà e alla fine che inquadravano la performance di Agnesi e Agnesi faceva queste disputazioni proprio se volete un po il termine medievale della della pratica di disputare su un punto no quindi c'è un punto da difendere uno un interlocutore attacca questo punto un altro lo difende e questa cosa lei la svolgeva con degli avversari che erano di solito professori universitari figure intellettuali di alto livello o italiane o anche straniere che si trovavano a passare per Milano e inizialmente sono questioni di filosofia naturale alcuni questioni newtoniane quindi la natura della luce la gravità e poi sempre di più matematica con i teoremi certi modi di lo studio di certe curve e così via e quindi cosa succede in queste cose c'è questo scambio in cui Agnesi assume una modalità molto per l'epoca aggressiva perché lei si mette a discutere da pari a pari con un immaginate una ragazza tra i 18 e i 20 anni con un professore universitario su questi temi e lei ne risulta questo fa parte un po della scenografia ne risulta se ne risulta vincitrice no di queste di questi scontri e quindi una delle cose che io suggerisco è che secondo me uno degli elementi di fascinazione qui per il pubblico è che c'è una ragazza che sta giocando un ruolo assolutamente distante da quello che è la sua la sua persona no sta giocando il ruolo del molto mascolino del disputatore accademico scientifico poi finita la disputazione va sul si siede sul suo divano e diventa questa questa giovane donna molto diciamo molto umile molto ritirata come si dice all'epoca no quindi il valore di della ritiratezza di essere al proprio posto parlare nel modo in cui si deve parlare quindi c'è c'è questa sorta di switch a una figura che è quello della della donna cattolica del primo settecento in maniera completamente ortodossa quindi questo entrare uscire dalla dalla persona della disputatrice è probabilmente una fonte di grande interesse ci sono vari personaggi che arrivano dalla Francia soprattutto dall'Austria dalla da Vienna e da altre regioni italiane perché sono trovano qualcosa di incredibilmente affascinante in questo in questo fenomeno io penso pochi sono interessati al contenuto scientifico di quello che viene dibattuto almeno in quel contesto delle sue aree regolari e molti vanno per vedere invece questa questa molto inusuale performance lei in realtà aveva iniziato a essere visibile già da bambina e qui si capisce che c'è un investimento del padre nel nell'istruire nel nel dare dei tutor molto molto qualificati nel trovare dei tutor molto qualificati per questa bambina e era stata parte di una anche lì di una di un'esibizione pubblica nel nel giardino del palazzo Agnesi in cui aveva proclamato un'orazione in difesa del diritto delle donne ad accedere a le scienze sublimi come dicevano tra cui la matematica quindi c'è un è chiaro che c'è un gruppo di persone e Pietro Agnesi il padre è connesso a questo gruppo che stanno spingendo per l'educazione femminile per la partecipazione delle donne al mondo della scienza più alta e la piccola Agnesi che in quel momento ha nove anni forse quando proclama questa questa orazione se ricordo bene diventa un po un 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 diciamo un un emblema di questa battaglia no fino al punto in cui invece lei poi prenderà in mano le decisioni su quello che le interessa quello che non le interessa però in questa nella prima fase quando è bambina e adolescente è chiaro che lei ha un'incredibile educazione e questa educazione ha a che fare con una certa campagna per la promozione della prima di tutto del della congiunzione tra scienze moderne e eh diciamo fede tradizionale perché questi non sono sicuramente dei radicali anzi la maggior parte sono degli ecclesiastici sono figure di eh dotti ecclesiastici spesso docenti eh legati all'arcivescolo di Milano e mh e alla curia milanese eh che proprio danno diciamo il patronage a questo salon di questo Pietro Agnesi e è in quel in quella cultura che si che che sta emergendo Agnesi non è una cultura se volete come si potrebbe immaginare di illuminismo radicale no del del tipo che di cui di cui spesso leggiamo anzi direi che che siamo quasi all'atto all'opposto dello spettro se vogliamo pensare a diversi illuminismi no eh qui siamo veramente in un illuminismo religioso eh e che in cui il lo scopo finale è l'armonizzazione di scienza e fede piuttosto che la contrapposizione ehm arriva un punto in cui lei però la non non si adatta più a questa vita e ehm il picco delle sue esibizioni al 1739 ne fa una serie veramente impressionante ci sono personaggi molto importanti tra cui l'erede al trono di Polonia e una serie di altri di figure dell'alta aristocrazia europea che passano per vedere Agnesi a Milano e il padre ovviamente è entusiasta di questa situazione anche perché eh qui ve la faccio breve però c'è tutta una strategia economica che che Pietro sta e di status sociale che Pietro sta perseguendo nel senso che è una famiglia molto ricca però mercanti di seta e oro e mh e Pietro sta cercando di ehm diventare parte del patriziato milanese cosa molto difficile che richiede molto tempo e Pietro fa investimenti fa vari investimenti compra dei feudi in così in maniera tale da poterne assumere il titolo eh scrive all'imperatore di Vienna per cercare il suo patronage e con crea una libreria molto ricca che poi Agnesi può eh può usare e investe in queste figlie perché queste figlie la musicista e la matematica portano attenzione sul suo palazzo portano le persone giuste nel suo palazzo le 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 composizioni che scrive Maria Teresa la sorella vanno tutti sono tutte dedicate all'imperatrice o l'imperatore e vengono vengono infatti messa in scena nel teatro imperiale di Vienna quindi questa è un po' la strategia che sta dietro e nel trentanove la 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 Giovanni Agnesi dice al padre che si è stufata e che vuole diventare suora e il padre lì viene un un colpo fondamentalmente letteralmente viene descritto da alcuni presenti alla conversazione come colpito da un fulmine ehm è ovvio che non non vuole perdere questa figura che è il perno del suo salon della sua no del del palazzo eh della sua piccola corte che ha costruito con tanta attenzione negli anni e allora c'è questo accordo per cui si capisce che Agnesi vuole mh passare a studiare le cose che veramente la interessano che sono fondamentalmente teologia e matematica quindi si vuole uscire da questo mondo invece della filosofia naturale un po' spettacolare eh che andava per la maggiore in quel momento pensiamo all'elettricismo no quindi gli esperimenti da salon che hanno comunque un effetto interessante anche per un audience non particolarmente qualificata e e quindi Pietro messo alle strette in quel modo accetta e quindi da lì si comincia a scrivere il libro di matematica perché lei può abbandonare gli studi diciamo di filosofia newtoniana più ampi che aveva fatto fino a quel momento si concentra solo sulla matematica e comincia a pensare che vuole scrivere un libro che possa essere utile alla comunità dei matematici italiani in particolare no infatti pensa subito di scriverlo in italiano e inizia pensando magari un testo su un commento all'Hopital che aveva scritto uno dei primi libri sul sull'analisi infinitesimale in quel momento pochi qualche anno prima e poi però diventa più ambiziosa nel suo piano e immagina invece di scrivere una introduzione sistematica al calcolo infinitesimale quindi differenziale e integrale partendo dagli rudimenti dell'algebra quindi questo è molto interessante prendendo il lettore che lei immagina una studente giovane e portandolo per mano fino a quello che in quel momento è la frontiera più estrema della ricerca matematica no un poco cioè come negli anni venti parlare di fisica quantistica se uno parla di calcolo integrale in quegli anni e quindi è un progetto molto ambizioso e mai in realtà fatto prima perché chi si occupa ci sono specialisti di calcolo infinitesimale in Italia e in Europa ovviamente chi se ne occupa però tende a farlo in maniera altamente specialistica ci sono probare problemi che vengono presi come obiettivi le pubblicazioni avvengono in riviste specializzate o diciamo non accessibili al grande pubblico agli studenti normali vengono sono quasi sempre in latino o in qualche altra lingua difficile per uno studente italiano quindi l'idea di Agnese di assemblare tutti i materiali disponibili dispersi in varie lingue in varie pubblicazioni e cercare di dare una struttura a questo a questo materiale tra le innovazioni ovviamente c'è creare il linguaggio perché quasi nessuno ha scritto di calcolo in italiano fino a quel momento e quindi deve deve coniare un sacco di parole che poi molte delle quali rimangono nel lessico della matematica un'altra cosa che deve fare deve insegnare ai tipografi a usare i simboli del calcolo perché non li hanno non hanno mai stampato un libro con i simboli del calcolo infinitesimale quindi una una macchina dello stampatore viene mandata al palazzo di Agnesi al piano terra e lei supervisiona la stampa del libro perché è una cosa molto complicata e questo è un punto interessante che a volte sottovalutiamo anche questo aspetto materiale della produzione del dei testi matematici no e di come invece in realtà ci sia molto dietro a livello di coordinazione di collaborazione con gli artigiani e di immaginare possibili soluzioni in questo caso tipografiche a problemi di rappresentazione ovviamente stiamo parlando della notazione leibniziana che è quella che Agnesi adotta anche se il suo libro è molto particolare quando uno poi va al di là della pagina della prima pagina e guarda un po' cosa c'è dentro è interessante perché lei è sicuramente ha imparato il calcolo nella tradizione leibniziana che è presente nel nord Italia soprattutto nelle aree in aree del Veneto con cui lei è con personaggi come Jacopo Riccati con cui lei è in contatto epistolare però il modo in cui lei presenta e usa i concetti non so dall'infinitesimale ad altri concetti che vuole che presenta allo studente e poi utilizza in vari casi esemplari è molto geometrico il modo in cui lei invece pensa a queste cose quindi è come se fosse un po' un ibrido tra per chi ha presente questa questa divaricazione diciamo del calcolo nella prima parte del settecento tra i leibniziani e newtoniani è come se ci fosse una superficie leibniziana e un diciamo un cuore newtoniano nel fatto che lei privilegia in realtà una comprensione geometrica del calcolo di quello che il calcolo sta in realtà dicendo a svantaggio della dimensione operativa che invece è quello che sta guidando la ricerca del calcolo quasi ovunque al di là dell'Inghilterra e della Gran Bretagna diciamo quindi è interessante anche queste poche lettere che sono sopravvissute del suo dialogo con Riccati sono molto interessanti Riccati Riccati Equation è una delle equazioni che ancora hanno il suo nome in calcolo infinitesimale un pioniere del calcolo infinitesimale crea un circolo di specialisti nell'area di Treviso di Castelfranco e si occupano di cose per esempio relative all'idrodinamica applicazione del calcolo a una serie di fenomeni fisici che hanno a che fare con la gestione delle acque che ovviamente nella pianura padana e a Venezia è una cosa molto importante e si trova a corrispondere con questa giovane donna che comincia a chiedere dei chiarimenti perché vuole capire bene alcune cose da mettere nel suo libro che le viene presentata da un monaco amico comune e lui le risponde e si e si crea questa per certi versi bizzarra corrispondenza in cui ci sono anche degli elementi di scherzo di gioco molto interessanti perché c'è un signore un conto e settantenne della terraferma veneta e questa giovane donna milanese che sta facendo una cosa che lui in realtà non capisce cosa sta facendo però cerca di aiutare no quindi lei le manda manda dei testi da vedere se sta capendo bene le sue tecniche che lei vuole presentare sistematizzare presentare nel suo libro e quindi c'è vanno avanti un paio d'anni con questo con questa corrispondenza e a un certo punto lui le dice ci sono tutti questi belli esempi applicativi che che io ti posso dare no perché non li inserisci nel libro cioè sono molto è quello che la gente in realtà sta cercando le come usare queste tecniche per affrontare problemi per esempio la frizione no problemi di pratici che hanno a che fare con cose come la gestione delle acque piuttosto che la balistica e altre cose così e lei le dice dice esplicitamente no grazie sì è molto interessante ma ma questo non non è quello che sto cercando non è quello che voglio mettere nel mio libro perché il mio libro deve essere sulle sulle pure idee no matematiche deve essere un libro che ha a che fare con il con ragionamento matematico non col momento applicativo e questa è una cosa veramente inusuale no in quel momento tant'è vero che è vista come una bizzarria e ancora devo dire nel novecento nel uno dei uno degli storici della matematica che presta più attenzione a questo testo che evidentemente legge il libro di di agnesi al contrario di altri che magari l'hanno solo sfogliato trusdell non riesce a capire perché agnesi non non faccia un libro che includa le applicazioni perché quello è il calcolo nel settecento è la meccanica è l'elemento di intervento sulla realtà empirica non c'è altra logica portante che sta guidando l'evoluzione del calcolo in quel momento quella arriverà più avanti con i vari processi di regolarizzazione di del primo ottocento e quindi quello rimane un po un punto così una una sorta di idiosincrasia leggendo agnesi nel suo complesso penso diventi più facile o almeno diventa possibile capire quello che lei trova di così importante in questo esercizio matematico che affina l'intelletto no fa del del calcolo proprio in quanto esercizio intellettuale e per questo che lei dà valore al calcolo perché è la la forma diciamo la branca della matematica più avanzata e che richiede i ragionamenti più sottili no secondo lei usa proprio questo termine e quindi affina l'intelletto la la facoltà più alta della della mente umana questo affinamento dell'intelletto è poi utile per lo scienziato per il filosofo ma è anche molto utile per chi voglia meditare seriamente i misteri della fede e quindi qui qui a mio parere c'è una connessione con la suo interesse per la meditazione e quella che lei chiama la capacità di attenzione che è un termine molto importante che arriva dalla tradizione malbranchiana e dei dei mona degli oratoriani francesi eh per cui anche e anche per loro la matematica ha una funzione di ehm affinamento della forza della capacità intellettiva e quindi anche della capacità di concentrazione di attenzione come dicono quindi secondo me Agnese che è una lettrice di Reno e di altri autori oratoriani di testi di matematica coglie questo questo elemento di connessione tra la la pratica religiosa e la matematica e questo in qualche maniera lo eh inserisce nel suo libro anche se non in maniera esplicita ma è questo che sta guidando questa questo interesse per la definizione dei concetti la chiarificazione la chiarificazione dei passaggi logici questo è molto interessante per lei quindi proprio un modo di guardare a queste tecniche che non è quello di Riccati non è quello di quasi tutti gli altri dove invece l'idea è questa tecnica mi serve io approssimo perché devo avere un risultato eh se approssimo entro certi limiti va bene Agnesi sta pensando che invece il processo di chiarificazione logica di connessione di deduzione è quello che conta e è quello che aiuta l'intelletto a rafforzarsi quindi in questo per riassumere questa connessione tra eh religione e matematica non è superficiale non è il tipo apologetico filosofia naturale no? Eh quindi ci sono molte riflessioni su come l'idea dell'infinito in matematica in questo momento che è così nuova eh richiami la la potenza di Dio no? Per esempio questo non è il genere di riflessioni che fa Agnesi non 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 ricorre quasi mai se non nei suoi primi scritti quando ancora sta studiando Newton di cui riprende ovviamente tutte le la dimensione apologetica e teologica naturale ma poi lei non ritornerà mai più su quel genere di argomenti non c'è non c'è questa nel libro Dio non è mai invocato come invece è invocato nei principi no? Non c'è questa sorta di passione per l'elemento tecnico che però secondo me rivela questa questa passione per questo gioco intellettuale che non è un gioco in realtà che è molto importante che è la cosa più importante che un essere umano possa fare eh e un goal diciamo uno scopo scusate della dell'educazione uno degli scopi dell'educazione deve essere proprio rafforzare l'intelletto perché in quel modo si sarà migliori cristiani migliori cattolici ci sono alcuni altri passaggi molto belli in cui lei parla della matematica di perché è così appassionata uno ne menziono uno mi piace andare nel mondo della matematica perché lì regna la pace e dovete pensare a questa frase nel contesto di una Milano degli anni trenta che viene occupata militarmente due volte solo in quel decennio nel corso della guerra di successione austriaca quindi la guerra di successione austriaca per Milano è un momento di grave crisi militare ed economica l'impero è a rischio no e Milano è un appendice di quell'impero e la vittoria finale di Maria Teresa sarà un grande momento per Milano e per questi gruppi che sono connessi all'imperatore a Vienna e che cercano il patronage no prima dell'imperatore poi a quel punto di Maria Teresa quindi questo è un po' il contesto lei in un momento di quindi guerra carestia povertà diffusa c'è hanno si è stato calcolato che il numero dei 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 mendicanti per la città aumenta del 20 per cento in 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 pochi anni e la matematica come mondo di pace ovviamente ha un suo ha un suo ha un suo significato sul libro posso ancora dire che la grange negli anni 60 a chi chiede un consiglio per come avvicinarsi al calcolo infinitesimale con ancora suggerisce di leggere eh agnese secondo volume il primo volume era sull'algebra no è la fondamentalmente algebra per arrivare al secondo volume che è differenziale integrale quindi secondo lui quella sistematizzazione quella standardizzazione eh compiuta da Agnesi e che in realtà è molto originale perché lei poi tra l'interesse per diciamo quella che lei sta concependo come una sorta di matematica pura e eh l'elemento linguistico e di standardizzazione sta inserendo un sacco di cose nuove in in questo in questo testo ehm io vado avanti o perché posso arrivare a una a una conclusione poi mi piacerebbe di più appunto sentire le vostre domande magari rispondere alle vostre domande piuttosto che andare avanti posso andare avanti eh un paio di settimane qua ehm breve eh inquadramento ehm il fenomeno delle filosofesse che menzionavo all'inizio eh Agnesi non è sola ci sono varie altre donne che eh acquistano credibilità come scienziate matematiche non direi Agnesi probabilmente eh è l'unica che ha questo questo eh che viene riconosciuta in quanto matematica però filosofi naturali e fisiche ce ne sono altre la più famosa è sicuramente Laura Bassi a Bologna che diventa professore straordinario all'università di Bologna nel 1732 quindi leggermente più giovani di di Agnesi ma siamo in quella in quella stessa generazione ehm e ehm e anche qui storia molto diversa non c'entra la famiglia ricca che supporta la figlia che studia la matematica eh però c'è un elemento comune molto importante che è la chiesa perché in questo caso non sono gli arcivescovi di Milano che supportano Agnesi ma è direttamente il Papa è Benedetto XIV che eh da Roma la città che controlla l'università di Bologna spinge per la carriera di di Bassi no? E e che si accetta perché ovviamente il senato di Bologna non è entusiasta di nominare una donna nella sua tra la nella sua facoltà e e allora lì interviene il Papa direttamente e il Papa è anche una figura mh visibile nel nel background della storia di Agnesi per è uno dei primi che si congratula quando il libro di Agnesi viene pubblicato quindi questo Papa molto particolare Benedetto XIV non Papa Illuminista no? A volte è stato descritto così eh ha evidentemente anche lui una sua strategia in cui se la cultura cattolica si apre sia alle scienze ma anche ad altri gruppi sociali referenti sociali che non sono quelli tradizionali per esempio le donne questa è una mossa strategica importante in una fase in cui in realtà la chiesa cattolica sta declinando come suo prestigio culturale l'università di Bologna stessa sta declinando è un po' un modo invece di riaffermare un primato culturale no? E di far vedere al mondo che a Bologna una donna è professoressa no? E quindi c'è questo elemento un po' tra il campanilistico perché poi Benedetto XIV è di Bologna questo in Italia ovviamente conta sempre tra il campanilistico e una sorta di a questo punto tentativo disperato della chiesa di riacquisire una posizione di frontiera nel dibattito culturale scientifico quindi questa è un'altra direzione in cui si può andare a partire dalla storia di Agnesi. Epilogo della storia di Agnesi lei muore a 80 anni a una lunga vita alla fine del secolo proprio le truppe francesi occupano Milano in quel momento quindi non ci possono essere funerali o manifestazioni religiose perché potrebbero essere fonte di scontro tra la popolazione e le truppe occupanti e quindi viene sepolta velocemente in una fossa comune fuori porta romana e il suo corpo non viene più identificato quindi non esiste una tomba di Agnesi sono poi state messe alcune lapidi in zona ma non è stata più recuperata quindi anche questa sorta di sparizione fisica no? Che avviene allo stesso tempo in cui la sparizione storiografica sta anche avvenendo la trovo emblematica la trovo significativa perché a quel momento in quel momento ormai si dubita dell'autenticità del libro di Agnesi nel senso che lei sia l'autore autentico si suppone ormai in maniera sempre più chiara che una donna non può avere quel tipo di lucidità razionale che richiede la scrittura di un libro del genere e questo sulla base di nuove teorie che stanno emergendo fisiologiche sul cervello e sulla differenza tra cervello maschile e cervello femminile quindi idee scientifiche e quindi il declino di Agnesi la fine di Agnesi e la sua sparizione avvengono nel momento in cui una nuova mente femminile in realtà sta emergendo l'idea una nuova idea di mente femminile che è diversa da quella maschile che ha certe caratteristiche tra queste non c'è la capacità logico matematica e questo poi è il mondo ottocentesco no che arriva fino ancora a Lanzoletti a Ginoloria Ginoloria che dice nel 1890 qualcosa beh alla fine sappiamo tutti che le donne non possono fare matematica no questo è proprio l'arco del successo di queste teorie della mente materialistiche illuministiche quindi un po' il paradosso del della donna che era stata supportata dalla chiesa cattolica nel suo momento di genio di bambina prodigio e poi di donna geniale e poi finisce no nelle in quello che a cui pensiamo come l'hai moment dell'illuminismo finisce invece dimenticata perché una donna non può non potrebbe mai scrivere quel quel genere di libro quindi mi interrompo qui e grazie 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 a scusate avevo delle immagini che mi sono anche di aver dimenticato se volete molto brevemente vi faccio le faccio ve le faccio vedere o questa è un'immagine che ho usato per la copertina del libro adesso vi dico cos'è in un secondo questa è una delle class delle poche immagini di agnesi nei suoi vent'anni piuttosto semplice per una donna di quella ricchezza milano in quegli anni molto pratica come acconciatura abbigliamento questo è in realtà da dove viene l'immagine che ho usato per il mio libro questa non è agnesi di cui non abbiamo immagini da bambina ma è la madonna che impara a leggere e questo è un genere molto molto popolare negli anni in cui agnesi è bambina prodigio e questo è un pittore che conosce agnesi e come vedete del 44 quindi dopo la vicenda della bambina prodigio e è un genere che viene praticato dagli artisti in diversi momenti però non è mai un genere particolarmente popolare e invece la popolarità di questo genere della madonna che l'impara a leggere esplode nella prima metà del settecento in coincidenza con la presenza di una serie di bambine prodigio stile agnesi e questo pittore lo dipinge per un collegio di padri somaschi quindi sempre ambiente cattolico lombardo della diocesi di milano capacità di attenzione questo è sempre lo stesso pittore molto connesso ad agnesi qui sta cercando di rappresentare quella che agnesi descrive come la capacità di attenzione lo fa in molti suoi quadri c'è spesso appunto questa luce un po metafì sono quadri molto metafisici molto poco settecenteschi ovviamente di impronta caravaggesca però da notare sempre l'astrazione degli sfondi e quello su cui ci si concentra è lo stato di assorbimento in cui queste figure sono è anche interessante che queste figure sono alternativamente santi o scienziati e se non si guarda la didascalia non si capisce non c'è nessuna differenza in realtà sono sono accomunati dalla capacità di attenzione ma poi possono essere un santo che sta leggendo la sacra scrittura piuttosto che uno scienziato che sta leggendo qualcosa di matematica questa è maria teresa come vedete fiera compositrice perché in questo in questo ritratto lei scrive oltre che a suonare e quindi sta ci sta dicendo che lei scrive la musica non è solo una così una che ha imparato a suonare il clavicembalo questo è la musica che scrive scrive delle opere in realtà molto molto importanti però questo è sono i pezzi di clavicembalo grazie a tutti grazie a tutti e ecco niente volevo soltanto darvene un assaggio le opere che scrive sono mandate a vienna come dicevo e ce n'è una in particolare che secondo me è molto significativa in questo contesto perché è la sofonisba un tema abbastanza trattato da vari autori quindi questa regina che si si suicida di fronte all'avanzata delle truppe romane che invadono il suo regno però il modo in cui lei lo rende non è quello di una non è pieno di pathos come di solito è reso dagli autori che avevano trattato il tema in precedenza ma è pieno di forza di questa questa è una donna forte lei proprio lo scrive chiaramente una donna forte che di fronte all'avversità decide autonomamente di suicidarsi come protesta no come protesta verso il mondo quindi una rovescia completamente la chiave di lettura del della di questa figura e questo rovesciamento avviene nella musica per cui le le arie che lei scrive per questa donna sono arie marziali arie marziali normalmente la figura di sofonisba non ne aveva perché le aree marziali erano per il generale romano per il marito di sofonisba che teoricamente sarebbe il capo dell'esercito cartaginese mentre invece lei sta rendendo sofonisba la regina che sta guidando il popolo cartaginese e quindi da lei le le arie marziali un interessantissimo diciamo capovolgimento proprio nella struttura dell'opera e nella musica che lei scrive per l'opera degli stereotipi di genere che erano tipici invece di quella di quel di quel pezzo questo nel momento in cui la sorella dedica il libro a maria teresa vittoriosa uscita vittoriosa dalla guerra di successione e scrive se non c'è mai stato un momento migliore per le donne d'europa di manifestare i loro talenti adesso che una donna è una delle più potenti uno dei più potenti principi d'europa venite fuori no è una sorta di chiamata alle armi letterarie per per le donne d'europa uscire dai loro rifugi e manifestare le loro capacità ultime immagini questa è laura bassi con l'ermellino che ci appunto che comunica il suo status accademico questa è una serie di bellissime immagini che marta cavazza tanti anni fa rese visibili a tutti da bologna vedete qui laura bassi che sta dando la lezione inaugurale no alla ai professori dell'università riuniti questo è un algarotti è un newtonianesimo per le dame algarotti scrive questo testo negli anni in cui agnesi è attiva come bambina prodigio e algarotti ha studiato con laura bassi quindi ci sono varie chiavi di lettura nel perché dedicare un testo di newtonianesimo alle donne però ovviamente algarotti è uno che conosce il mondo di queste donne filosofi e e conosce bene il valore di una di una figura come laura bassi qui nel frontespizio del libro utilizzerà però la il volto di madame du chatelet no per rappresentare questo è lui un solo una sorta di suo autoritratto per rappresentare la conversazione tra il gentiluomo e la dama interessata di scienza trattato madame du chatelet che anche anche lei in questo momento la si sta un po' riscoprendo per quanto riguarda i suoi testi di fisica che però ha una carriera più sfortunata di queste donne almeno in termini di riconoscimento no a parigi in se facciamo il paragone con queste donne italiane infine la la curva di agnesi no con una una delle poche cose che sopravvive ad agnesi dopo la sua morte è questa curva che viene spesso intitolata lei e che quella famosa legge per cui le scoperte non sono mai intitolate alla persona giusta anche questa in realtà non ha a che fare con con agnesi in maniera particolare era una curva già studiata per esempio da grandi da altri da altri geometri del 6 700 la vedete qua versiera in italiano e la cosa interessante per questa curva è ovviamente il nome no come vedete la strega di agnesi la strega di agnesi è il modo in cui a questa curva ci si riferisce nel mondo anglosassone per quello che ormai si è capito fu un errore di traduzione di un professore inglese john colson lucasian professor a cambridge che traduce il libro di agnesi penso negli anni sessanta del settecento viene pubblicato molti molti anni dopo però da quando viene pubblicato il libro questa curva è the witch of agnesi no quindi ironicamente una delle poche cose che sopravvive di agnesi nel mondo scientifico almeno della storia della scienza è è qualcosa legale relativa alla strega no e per questo in certi casi ho scritto qualcosa che si che si intitolava da genio a strega no siamo passati dalla bambina prodigio ammirata in europa a un qualcosa di poco conosciuto e quel poco che se ne sa è stregonesco no diciamo c'è molto di psicoanalitico in questo errore quindi ecco questa è la conclusione grazie 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 mille ringraziamo nuovamente e direi che lasciamo la parola se ci sono domande e commenti per il nostro relatore di oggi grazie 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 massimo molto interessante in particolare proprio questo connubio tra religione e matematica teologia e matematica infatti la mia domanda era un suggerimento di elaborare un po di più appunto in che senso i suoi trattati di matematica punto possono essere utilizzati a favore della fede e in particolare se possiamo usare un po la chiave di lettura di degli esercizi spirituali di piera do e appunto se un post la sua pratica si può interpretare in quella dimensione lì inoltre mi chiedevo cioè lei appunto quando con suo padre ha detto no sono stufa di queste performance eccetera dice voglio fare teologia e matematica ma quella scrive anche di teologia o no usa così ero curiosa di questi aspetti sì grazie sicuramente lei ha tutta una una buona siccome fortunatamente conosciamo la sua biblioteca c'è tutto un filone di riflessione ascetica l'unica cosa che non si trova nella sua biblioteca sono testi gesuiti quindi non ha l'oiola non ha la traduzione gesuitica quella è molto interessante cioè quindi anche quello che non c'è nella sua biblioteca è molto importante perché a milano c'è il collegio di brera ci sono matematici di alto livello ci sono figure filosofiche di alto livello alcuni dei quali insegnano l'università di pavia lei non ha relazioni con queste figure quindi questo è molto interessante quindi lei è distaccata dal mondo gesuita il mondo gesuita è su un altro versante del del complesso mondo cattolico milanese in quel momento rispetto a questa sorta di cattolicismo illuminato in cui invece si situa il salon di pietro quindi la tradizione a cui mi sembra che lei attinga di più sono tradizioni contro riformistiche sempre però non di tipo gesuita ma eh letteratura teatina scupoli eh quindi a scu a scupoli fa riferimento molto spesso nelle nelle sue pratiche quindi il combattimento no il combattimento della fede il 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 fedele che deve entrare in una sorta di 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 lotta no la lotta contro se stessi poi no quindi questa questa sorta di di lotta interiore che bisogna vincere e tutte queste metafore anche militari che che arrivano da scupoli e da altri eh Andrea Vellino per esempio quindi altre figure ehm soprattutto del mondo teatino e lei c'è una chiesa teatina di vicino a casa sua che esiste ancora tuttora gestita dal FAI molto una bella chiesa medievale ma poi rifatta in epoca rococò in cui lei aveva un suo altare in cui andava tutti i giorni e si evidenzia una sua connessione con la congregazione teatina eh quindi lei a un certo punto sceglie il suo confessore privato in quella congregazione cosa strana perché invece tutto il resto della famiglia va nella chiesa parrocchiale ha connessioni con la chiesa parrocchiale quindi è interessante vedere come lei sta scegliendo anche da un punto di vista spirituale eh delle figure che fanno più sono più in linea con quelli che poi diventano i suoi interessi predominanti ehm scrive qualcosa o meno scrive delle cose ma non pubblica niente su questo eh qui sarebbe interessante anche pensare un po' ai motivi però diciamo quello che ho trovato sono solo manoscritti a volte parziali nelle sue carte che sono all'ambrosiana e le e sono notazioni per se stessa lei eh per esempio scrive tutta una serie di 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 note su come prepararsi alla preparazione spirituale eh alla medita alla meditazione alla eh di come organizzare le proprie preghiere e poi fa anche altre cose eh più mh rilevanti diciamo da un punto di vista eh sociale nel senso che lei la sua competenza teologica è conosciuta dall'arcivesco di Milano e lei viene interpellata in vari casi in cui c'è qualcosa di di problematico per esempio la censura di qualche libro importante no quindi c'è esce un libro di Gorini Corio negli anni primi anni sessanta eh sull'antropologia umana e l'arcivesco di Milano manda il libro ad Agnesi e dice cosa pensi di questo libro e lei gli scrive secondo me a questo non sta andando nella direzione è una è una è una anche una lettrice molto attenta e sottile del di quelli che possono essere i pericoli no dell'interazione scienza e fede quindi interazione scienza e fede va bene in un contesto che è quello in cui è ben chiaro che c'è un framework tradizionale dogmatico cattolico che non viene messo in questione se quello succede e ci muoviamo verso l'illuminismo degli anni sessanta no il caffè quel mondo lì non è il mondo di Agnesi e allora lei su Gorini Corio dice all'arcivescovo che la sua opinione è negativa e il libro viene censurato più avanti Paolo Frisi matematico milanese molto conosciuto su questo c'è una sua lettera scrive appunto sulla terra no scrive questo questo saggio sulla terra quindi fisica cosmologia e lo manda lui ad Agnesi per chiedere cosa ne pensa perché in quel momento diciamo tra gli anni cinquanta e settanta Agnesi è una figura a cui tutti mandano il a Milano i milanesi almeno diciamo mandano i propri testi scientifici per avere un'opinione in quel caso Agnesi scrive al fratello perché non è una figura molto gestisce molto bene diciamo tutte le le relazioni quindi non non dice non risponde a Paolo ma scrive al fratello e dice guarda io penso che questo libro di Paolo sta sta in realtà facendo degli errori cioè una figura lui prima lo elogia no dice che è un intelletto molto sottile però poi dice non credo che sta credo che stia facendo un oltraggio alla religione in realtà in questo libro e quindi c'è sempre questa sua anche maniera di essere molto forte nelle sue nelle sue dichiarazioni nelle sue posizioni che poi non si concilia appunto con altre descrizioni di lei come questa persona angelica e quasi non terrestre invece in realtà è una figura che sa molto bene dove si trova e come muoversi questo si vede anche poi con la gestione del più al bel contribuzio però spero di avere sì grazie grazie allora vedo dalla chat che ci sono un po' di mani virtuali alzate quindi vado in ordine con Ilaria Pollini eccomi ciao scusate non volevo scrivere in caratteri cubitali ma avevo il camp block attivato vabbè ciao Massimo grazie mille ciao e ascolta dunque avevo una curiosità sulle fonti eh tu prima raccontavi di quando durante le eh di ispite di situazione sorganizzate nel salotto di casa eh Agnese veniva eh raccontata come eh vincitrice nel corso di questi dibattiti e ti volevo chiedere eh da chi cioè com'è che noi sappiamo questa cosa chi ce la chi ce la racconta perché mi sembra piuttosto rilevante e l'altra domanda invece scusa l'ingenuità è un po' ingenua però vabbè ho questa ho questa curiosità ehm hai incontrato invece ehm eh descrizioni che accomunano il il sapere femminile quindi magari non solo quello matematico ma insomma il sapere scientifico all'estasi all'elevazione divina al all'ispirazione mistica ma proprio all'estasi cioè ho in mente l'immagine della della donna della santa in estasi e quindi di questo tipo di figura di figura femminile di questa forza di ispirazione ecco grazie grazie Laria allora sì no il primo punto è importantissimo infatti avrei dovuto menzionarlo ehm noi abbiamo la ricostruzione molto vivida di alcune di queste serate perché ehm un paio dei visitatori scrivono a casa e la raccontano perché sono rimasti molto impressionati da questa cosa no quindi per fortuna eh soprattutto eh una figura come Charles de Bross che scrive queste lettere dall'Italia no che sono state anche recentemente ripubblicate se non sbaglio e ha una serie di lettere su alcuni giorni che lui passa a Milano e va a dagli Agnesi e quindi vedi tutta la preparazione no prima dice ma mi dicono che c'è questa eh ragazza prodigio chissà che che roba che sarà sarà la solita la solita roba finita no è molto scettico e poi dopo invece è entusiasta quando torna dalla serata scrive alla famiglia dicendo che ha visto una cosa incredibile no e dice era meglio che il Duomo di Milano e tutta la città di Genova messa insieme come dal punto di vista artistico no perché lui è uno che cerca eh lui cerca eh Raffaello e Tiziano a Milano non è molto contento di quello che trova neanche a Genova eh però eh dice cavo questa 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 donna valeva la pena del viaggio no e quindi ci sono questo genere di lettere e lui tra l'altro partecipa perché viene viene invitato a disputare così a freddo no a volte si facevano un po' questi coup de teatro un po' anche per rendere più interessante la serata e allora praticamente è interessante anche per rispondere ancora di più alla tua domanda chi gestisce questo teatrino no e curiosamente non una donna perché invece nel salon francese che è diverso è sempre una donna che fa la mediatrice quindi le posizioni di genere sono sempre che la donna mediatrice media tra i geni uomini che altrimenti si scontrerebbero invece la donna porta questo elemento di moralizzazione e di mediazione no all'interno del del dibattito qui è l'opposto c'è un uomo che dirige la conversazione che è un amico di famiglia aristocratico e anche qui secondo me quello che sta succedendo è che questo è di un'aristocrazia provinciale di pavia di una famiglia che è stata molto importante senatoriale di Milano ma che al momento abbastanza decaduta e la sua la sua joint venture con Pietro è interessante perché Pietro invece al palazzo a Milano ha molti soldi e utilizza il savoir faire di questo aristocratico per gestire il salon e dare i ritmi no e quindi questo aristocratico fa l'introduzione all'inizio e spesso la fa in latino perché ci sono figure persone da tutta Europa e allora parla in latino introduce le persone i protagonisti della serata quindi c'è questa figura di mediatore che gestisce la serata e può come nel caso che di Debross chiamare qualcuno e dire perché non fai una domanda vieni a partecipare e allora Debross descrive come all'improvviso si è trovato a dover parlare in latino che non era neanche così era un po' arrugginito e ha cominciato a parlare del rapporto anima e corpo e allora si sono messi a discutere il rapporto anima e corpo dopodiché il suo amico che era un matematico si è messo a parlare di geometria e ha chiesto di poter parlare francese perché non riusciva a parlare in latino di geometria e Agnesi si è messa a parlare in francese anche lei allora a seconda di che ospite aveva davanti questa era un'altra cosa che divertiva molto lei cambiava lingua e ne aveva diverse sei o sette incluso il greco con un ospite greco rimase famosa questa sua conversazione in greco che nessun altro capì però quindi le testimonianze diciamo ce ne sono alcune molto buone che ci danno della dei materiali buoni da usare c'è anche una descrizione di un amico di famiglia che poi scrive la prima biografia di Agnesi appena morta che dà una sua versione di come andavano queste serate quindi quel momento abbiamo abbastanza devo dire su quel momento poi su altre fasi c'è quasi nulla su quel momento ci sono ci sono delle cose e scusami poi mi hai chiesto l'estasi e sull'estasi e sì anche io ho pensato subito di guardare un po in quella direzione e c'è anche un testo Agnesi anche inserita uno dei suoi testi inediti è inserito in una raccolta di mistiche italiane e quindi anche quello all'inizio mi aveva fatto pensare di andare un po in quella direzione poi in realtà la mia per come la capisco io a me non sembra affatto che lei abbia una vena mistica cioè il misticismo barocco è quanto di più lontano ci possa essere dalla sua sensibilità in realtà e quindi lei è veramente ascetica nelle sue pratiche molto diverso lei l'intelletto è sempre non è mai superato in Agnesi se non proprio nella fase finale della contemplazione divina della immedesimazione in Dio però per tutto il processo di preghiera meditazione innalzamento spirituale l'intelletto come dice lei cospira con con l'amore no lei ha queste queste immagini dell'intelletto dell'amore che cospirano a innalzarti quindi non devi mai abbandonarlo non sei mai in una fase di ecstasis no e di trascendenza se non forse appunto in questa sorta ineffabile momento finale del della visione di Dio però prima di allora no quindi ecco non ho una lettura mistica di lei ma ma diversa bello grazie molto interessante grazie mille allora continuo con Paola Giacomoni intanto volevo ringraziare per la presentazione di questa di questo personaggio così interessante no è assolutamente sconosciuto almeno a me perché ah ecco non ho capito ma forse mi sono distratta che fine ha fatto è andata poi in convento poi cosa ha fatto no 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 lei passa la diciamo la seconda metà della sua vita anche di più appunto direttrice inizialmente è ha dei ruoli in alcune confraternite di tipo caritatevole nella città di Milano quindi essenzialmente educazione dei bambini bambini di strada quindi educazione pubblica diciamo fatta all'interno sempre dell'infrastruttura parrocchiale di Milano e lei anche insegna quindi lei anche un momento in cui diventa una sorta di maestra che arriva con con il secchiello d'acqua e lava la lavagna ci sono alcuni alcuni brevi dati un po' di evidence in relazione a questo e poi l'arcivesco la designa come direttrice di questo più albergo tribuzzo lei rimane lì fino alla morte fondamentalmente è una vita piuttosto eh isolata dal dalla vita sociale di Milano ma non isolata nel senso che è disconnessa perché lei continua a essere in corrispondenza è in continuo eh contatto ovviamente con politici eh religiosi importanti perché la posizione è come dicevo all'inizio è molto importante però praticamente vive in una stanzetta all'interno del più albergo tribuzio eh ha rinunciato a tutte le sue diritti di eredità abbandonato il palazzo e e ha questa sorta di vita semi monastica fondamentalmente all'interno del del palazzo quindi lei non diventerà mai suora in realtà non e questa è un'altra cosa che fa pensare un po' a quella minaccia giovanile come a un a una a una minaccia che aveva uno scopo ma che necessario non era necessariamente qualcosa che lei volesse fare nel senso che poi quando il padre muore e lei potrebbe fare quello che vuole non si farà a sua ora no rimane immersa nella nella sua città a a lavorare in quello che secondo lei in quel momento è quello di cui c'è bisogno il passaggio del libro a questa altra fase della vita è stato visto a volte come una sorta di conversione eh io non credo affatto che sia così perché lei già faceva queste cose prima di eh di scrivere il libro c'è una continuità in realtà nella nella sua pratica caritatevole nel suo interesse per la teologia nelle sue preghiere così nella sua devozione quello che cambia è che lei ha scritto il libro che lei concepisce come una sorta di opera un po' a sé stante non è perché le interessa veramente una carriera di matematica vuole fare una cosa utile in questo ambito pensa che l'educazione matematica sia molto importante e poi passa ad altro questo è come lo descrive lei a delle a delle persone che conosce quindi si tratta di una sorta di ascetismo intramondano come come diceva essere nel mondo senza essere del mondo no esatto sì ecco però ehm proprio a partire da questo capendo con che cosa poi lei aveva fatto eh volevo una un approfondimento che comunque già sta venendo fuori dalle domande precedenti dalle sì dalle domande e dalle risposte precedenti sul tema della dell'importanza della concentrazione dell'attenzione della meditazione di quell'affinamento del dell'intelletto il ragionamento sottile eccetera e quel quel tema della dell'essere assorbiti no ecco questo la domanda è questa è pensato appunto un po come come si diceva prima come un esercizio quindi il lo studio della matematica è considerato un esercizio in vista della conoscenza di dio però insomma non fa la mistica e nemmeno insomma la suora quindi lavora nel mondo quindi non mi torna bene cioè la matematica serve solo sostanzialmente come un esercizio a fini teologici oppure viceversa con un po come in cartesia dove il tema dell'attenzione la concentrazione la meditazione è molto presente Dio invece è una garanzia del sapere scientifico quindi il sapere scientifico il ragionamento matematico non è un esercizio in vista di qualcos'altro ma è la realizzazione di quella razionalità di cui dio è la garanzia superiore Cioè ci sono due modi di intendere l'altro mi pare più vicino non so l'amore dell'intellettualis di spinosa invece che pure non è certo lontano da descart però sono due due vie diverse no ecco non ho ben capito da che parte sta perché questo affinamento intellettuale la sottigliezza del ragionamento da un lato sembra essere come dire un suo talento no proprio per cui scrive il libro eccetera però poi non va va non prosegue insomma in quella direzione ma nemmeno prosegue nella direzione teologica eh e allora ecco non insomma non mi è chiaro questo punto come come si può intendere No nella direzione teologica prosegue cioè non prosegue in termini di di pubblicazione però lei eh costruisce una biblioteca teologica dopo eh diciamo anche anche dopo la conclusione del del la pubblicazione del libro e la conclusione di quello che lei vede come il suo momento di contributo alla scienza eh in realtà lei lei continua a studiare molto la teologia e per questo poi diventa questa sorta di figura a cui lo stesso arcivesco va a a a chiedere consiglio in una serie di situazioni un po' spinose eh quindi lei passa dal dall'utilizzo dell'intelletto nella nella matematica all'utilizzo dell'intelletto nelle questioni teologiche fondamentalmente però questa rimane una pratica molto più privata molto più eh conosciuta da alcuni come l'arcivesco ma non pubblicizzata qui mi chiedo perché questa riservatezza forse eh e non ho una risposta molto ovvia o chiarissima eh forse una donna già una donna in matematica era stato qualcosa di profondamente eh inusuale e problematico per molti una donna in teologia eh e in questioni di teologia mh anche importanti relativi alla censura posso 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 immaginare che fosse ancora più problematico rendere pubblica questa sua questa sua eh attività tant'è vero che nessuno mai la menziona e viene scoperto successivamente alla sua morte quando poi qualcuno guarda le sue carte e trova le lettere con l'arcivesco quindi quello viene proprio tenuto ehm eh secondo me mh intenzionalmente intenzionalmente nascosta questa questa sua fase che però io vedo in continuità per tornare a a a a quello che dicevi con con l'esplorazione intellettuale che invece occupa un decennio no gli anni quaranta e che arriva alla alla scrittura del libro ehm e poi appunto eh quello che ehm eh circa quello che dicevi all'inizio sì io penso che Agnesi probabilmente non vede una dicotomia tra il il training dell'intelletto il diciamo l'utilizzo della matematica per raffinare l'intelletto ha di per sé una valenza religiosa non è fatto in perché poi alla perché poi dopo si vuole applicare alla religione la valenza religiosa perché è Malbranche Malbranche cioè quello che succede qui è che quello che noi capiamo lo capiamo in Dio la natura l'attenzione è preghiera dice Malbranche quindi l'attenzione è l'attenzione del filosofo dello scienziato al mondo alla natura quella è già una preghiera secondo me lei è molto più in sintonia con con questa vena Malbrancheana oratoriana che non con Descartes eh di cui lei che non ama particolarmente e di e quasi sempre poi quando c'è Descartes versus Newton lei per Newton tra su tutti i punti di quindi ehm quello che di Descartes lei ha arriva da Malbranche secondo me quindi è quella visione un po' più molto più in qualche maniera diventa veramente difficile separare eh dove finisce la religione dove inizia la scienza eh è una la so la la l'attenzione di per sé è un atto scientifico e religioso io la la leggo un po' così grazie continuerei in ordine con Stefano Mattei sì grazie ho il microfono a te sì eh sì anch'io eh ehm grazie per questa presentazione e ehm volevo sì dire anch'io chiedere anch'io qualcosa ma è stato già in gran parte risposto sulla razionalità l'esercito della razionalità anche in ambito eh della fede della teologia insomma questa cosa mi è eh mi risulta molto interessante ehm eh ma allora rimango con faccio delle domande visto che a questo si è già stato dedicato tempo e si è già risposto ehm delle curiosità che ho ecco innanzitutto quel seminario che richiamava anche Ilaria prima appunto con quel seminario quel con gli incontri quelle dispute che lei faceva ragazzina a casa sua nel proprio palazzo mi è sembrato di capire appunto erano organizzate queste dispute questi eh dibattiti dal padre no che voleva costruire costruire per sé per la propria famiglia eh una una certa posizione all'interno del del diciamo del dell'intelligenza milanese ecco non so come dire o della società dell'altra società milanese ma chi portava o che cosa portava personaggi appunto abbiamo visto insomma tu hai detto anche stranieri che passavano per Milano a confrontarsi con una ragazza così giovane ehm io posso capire che dopo un po' magari la fama di eh dell'Agnesi si era diffusa e quindi ma all'inizio come mai qualcuno veniva veniva a confrontarsi con lei a fare delle dispute con lei eh prima prima curiosità eh secondo ehm ecco per un milanese eh come me almeno di origine eh qual è la chiesa eh dove frequentata da dall'Agnesi ehm eh forse quella di Sant'Antonio Abate vicino alla alla statale insomma vicino a Largo Ricchini insomma scusate perché non è milanese questi questi riferimenti c'è tutta una topografia agnesiana molto interessante se vuoi ti do qualche eh con Niccolò Guicciardini abbiamo fatto tutto un giro a vedere i luoghi agnesiani alcuni dei quali sono sopravvissuti forse è questa allora adesso questa è quella che ho in mente in quella zona eh eccetera e poi ecco l'ultima curiosità che ho è eh quell'errore di traduzione che porta versiera no a diventare eh witch ehm non so mi viene in mente versiera avversario avversaria e quindi strega in questo senso però forse un po' tirato per i capelli no hai ragione eh inizio allora vado all'incontrario quest'ultimo punto è proprio così versiera avversiera avversiera può essere riportata come strega come no collegata a figura demoniaca e quindi probabilmente l'elemento tecnico dell'errore è stato quello no avversiera avversiera ehm poi è un errore è un errore interessante però no cioè perché è proprio lì il fatto che eh non si capisce come uno non si ponga cioè per me che anch'io ho fatto delle traduzioni insomma si ponga il problema no che cosa possa centrare sì perché poi versoria in latino ha anche un significato molto comprensibile dal punto di vista del movimento della curva no cioè quindi un professore lucasiano dovrebbe raccoglierlo adesso per carità non mi permetto di dire nulla però eh mi stupisce questa cosa a meno che appunto fosse una tradizione una traduzione cioè con un background di preconcetto un background di di bias il bias bias più implicito o come o quello che vuoi ma molto pesante ecco sì questo sì ehm sul punto della geografia si era è proprio quella la chiesa di di Sant'Antonio Abate eh e quella dove lei va a fare queste pratiche meditative sulla passione ci sono e si ci sono ancora del non in quella chiesa ma si possono ancora vedere dei ehm il genere di oggetti che lei utilizzava per queste meditazioni ossia la rappresentazione degli elementi della della via crucis fondamentale delle stazioni della via crucis no quindi elementi che portino la mente sulle varie fasi sui vari e e a volte a volte sono sculture a volte sono semplici rappresentazioni pittoriche a volte proprio delle sculture e quindi questo utilizzare un elemento materiale che poi però fa è origina un processo intellettuale eh che che ascende è è quello che lei sta facendo in in quella chiesa l'altra chiesa in cui lei è sempre è San Nazaro che sarebbe la chiesa della parrocchia quindi la chiesa di San Nazaro il canone di il parroco di San Nazaro è un'altra figura importante come riferimento eh per la quella però è una chiesa secolare non 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 mentre invece San Antonio sono i teatini ecco i teatini quella è proprio Sant'Antonio Abate mi sembra giusto ecco per quello mi erano utili e poi insegna già che già che siamo in zona San Calimero dall'altra parte no di Corso di Porta Romana lei insegna i bambini di quella parrocchia invece quindi il suo mondo è abbastanza piccolo se ci pensi è tutto non so stiamo parlando di centinaia di metri esatto esatto eh e e e e per lo più il palazzo era invece dove c'è l'asso lombarda su via larga quindi totalmente irriconoscibile eh quella zona del bottonuto è stata completamente distrutta tra la guerra e la ricostruzione del dopoguerra ok quindi non esiste non esiste non esiste più eh e e poi ecco la questione della credibilità eh questo è molto importante almeno io la capisco come questione di credibilità quello che tu chiedevi riguardo al fatto come mai uno ci si mette no a a disputare perché viene data questo status questa credibilità a questa giovane donna quello secondo me è una delle domande più più interessanti in questa vicenda e per la mia idea è che inizia nel circolo di all'interno del circolo di Pietro no questo circolo di ecclesiastici riformisti locali sono loro che alcuni sono i tutor di 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 Maria Gaetana e altri poi cominciano ad addestrarla in questa in questo esercizio ehm e quindi praticamente lei comincia le prime dispute da bambina da adolescente sono con i suoi tutor fondamentalmente e lì eh è lì che io leggo anche il supporto del del di una certa parte del clero locale quello più interessato alla vicende pedagogiche all'educazione delle donne al quello anche il periodo in cui le orsoline sono molto supportate dall'arcivescolo di Milano quindi secondo me c'è un elemento di questa cosa poi il momento che diventa più famosa probabilmente scattano altri meccanismi per cui a quel punto c'è una visibilità una visibilità tale è diventato un fenomeno e quindi ci si ci si raffronta con questo fenomeno no però l'emergere secondo me è proprio sotto l'ala protettrice della chiesa milanese di quel momento perché altrimenti non si spiegherebbe hai ragione a dire non ha senso questa cosa no ecco mi ponevo questo problema è sicuro che che c'è in relativo a questo problema è anche interessante vedere come queste poche donne filosofesse che emergono all'epoca tra Milano Bologna Venezia eh quasi tutte sono bambine prodigio nel senso che non c'è altro modo cioè secondo me è quello proprio un meccanismo sociale per cui se vuoi essere riconosciuta come donna credibile in una scienza devi per forza emergere in una maniera straordinaria no non puoi andare al collegio non puoi andare all'università devi essere una bambina prodigio fondamentalmente quindi quella diventa anche la modalità che le famiglie utilizzano quando poi c'è un interesse a enfatizzare questa cosa per vari motivi va bene grazie c'è un'altra domanda di Marco Andrea grazie grazie scusate tardissimo Massimo grazie bellissima affascinante questa persona affascinante ho due tre cose che ti devo mandare da non esperto ma la prima è che ha tirato fuori Stefano sulla traduzione questa storia della versiera avversa la moglie del diavolo perché lì per lì quando l'ho letto io non sono un linguista ma versiera che è questa manovella del in inglese si traduce winch no? e secondo me il buon il buon prete ha tradotto winch e poi qualcuno ha fatto winch errore tipografico è un errore no ma è una è una non so se qualcuno l'ha già accennato perché perché la versiera direbbe Cesare Pavese che traduceva Moby Dick si traduce in winch no? o winch comunque vabbè questa roba è un buon punto non ci avevo mai pensato e non l'ho mai sentita capisci N e T e diventa dopodiché ci sta benissimo c'è tutta la dietrologia della strega qualcuno ha detto no infatti quella dell'avversario avversiera è un'ipotesi è un'ipotesi però ma infatti faccio anch'io la mia ipotesi la mia ipotesi è che la traduzione è winch è la manovella che si chiama quella del senti e questo è una prima osservazione la seconda che mentre parlavi diciamo pur essendo affascinato poi sai io sono caduto ho guardato wikipedia per vedere se era vero quello che dice sai che si guarda e ho visto leggendo su wikipedia scherzi a parte che goldoni le ha dedicato un sonetto e mi farebbe piacere se ce l'hai sapere che cosa qual è il sonetto di goldoni e poi la domanda è diciamo il personaggio veramente affascinante veramente affascinante e qualche tempo fa Claudio Fontanari mi ha fatto vedere il suo libro istituzione di analisi per la gioventù italiana e l'ho dato un'occhiata diciamo anche e l'ho trovato davvero leggibile voglio dire del mio piccolo non mi stupisce che Lagrange che tutti abbiano detto guarda che è veramente bello cioè l'ho trovato quindi diciamo non c'è dubbio che la persona era affascinante scriveva bene di matematica poi sempre su wikipedia mentre ti ascoltavo ho visto che per questo per questo libro la Maria Teresa d'Ausi ha mandato un anello di diamanti il papa gli ha mandato dei regali cioè la persona quindi diciamo riconosciuto insomma l'Accademia delle Scienze di Parigi fece un'ottima recensione del libro ecco lo fece leggere a due accademici allora diciamo da matematico piccolo eccetera quando diciamo io mai a questi livelli diciamo ma qualche lavoro che diciamo sono intanto importante che mi hanno poi mi invitavano a parlare allora qui dico ma una così che poi di colpo a 30 anni smette e a 34 diciamo è veramente strana la tua interpretazione la capisco la seguo anche quello le domande di prima eccetera però non so se condividerla e tu hai accennato questa divisione delle due biografie no può essere proprio vero è che siano due storie diverse cioè è capitato a tanti matematici a un certo punto della loro vita di smettere completamente dire basta non so leggendario Grotendich no che per ragioni sue a un certo punto ha deciso di fare non è andato al più albergo Trivulzio ma insomma ha fatto una scelta di questo tipo può darsi che sia questa e tutto sommato pur essendo affascinato da quello che tu dici e comprendendolo certamente lo sforzo intellettuale porta poi così io mi sono fatto persuaso ascoltando che questa persona sia stata veramente una virtuosa della matematica che abbia amato tantissimo la matematica e poi a un certo punto abbia deciso di smettere e si è dedicata alla teologia o all'assistenza che come una cosa completamente separata diciamo per smettere come succede ai matematici ogni tanto di smettere fare una cosa completamente diversa io ho conosciuto dei matematici cioè a un certo punto hanno preso una barca a vela sono partiti e non hanno più fatto matematica e questa potrebbe essere anche un'interpretazione perché è veramente spettacolare come ti verrebbe da dire una che ha ricevuto l'anello di diamanti da maria teresa gli ha dedicato il libro ma dio mio madonna giro il mondo e vendo queste mie so queste mie conoscenze di questo è veramente strano ed è anche molto moderno come 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 impostazioni diciamo e rientra una tradizione di matematici geniali ecco questo volevo dire non lo so ecco pur avendo capito un po quello che vuoi dire forse non è così cosa dici sì sì certo questa è una questione aperta le interpretazioni ci sono dei alcuni fatti per esempio scusa 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 mi stai già mi rispondi ma volevo chiederti non c'è una lettera magari in cui lei racconta che so io una delusione amorosa oppure un qualcuno che l'ha contestata violentemente su sul libro cioè non c'è non si riesce a trovare una ragione di questa di questo smettere completamente ecco sì no infatti no è quasi l'opposto nel senso che appunto come come dicevi la ricezione del libro è molto positiva quasi quasi senza eccezioni diciamo che ci sono alcuni fatti che mi fanno propendere per l'interpretazione più continuistica piuttosto che discontinuistica ad esempio il fatto che lei sta sta già facendo tutte quelle pratiche devozionali che poi diventeranno visibili sempre di più nella seconda parte della vita ma in realtà sono già parte della sua vita cioè l'aspetto religioso devozionale di riflessione di meditazione è già lì da quando lei è una una teenager fondamentalmente dai dalla gioventù quindi in quel senso mentre alcuni avevano suggerito appunto la rottura in termini di con di conversione religiosa quella non la vedo ecco quella non la vedo perché invece lì si si vede proprio una certa continuità sulla questione dell'abbandono della matematica poi appunto sì lì si può si può immaginare diverse possibilità lei ha un ha un amico che lascia un paragrafo su questa questione dice se ci fidiamo di questo amico che a lei sembrava di avere fatto un buon servizio al mondo del della degli studiosi italiani con questo suo libro e adesso aveva altre idee con cui servire no essere utile no rendersi utile queste idee a lei è un'idea molto civile della religione no diremo social work in pratica no è quello che lei sta facendo questa quindi mi ha un po portato nella direzione che poi quella un po la mia lettura però certo che ci possono essere varie altre altre letture mi fai anche pensare che io non ho traccia di critiche a lei direttamente quando lei è in questa fase della sua vita è vero anche che l'atmosfera e l'attitudine nei confronti di queste donne filosofi sta cambiando quindi però questo avviene gradualmente non è che c'è un momento netto di di rigetto però è ovvio che la seconda metà del settecento è un periodo in cui comincia ad esserci molta più ironia critica dalla presa in giro bonaria ha invece proprio delle critiche anche molto pesanti che vengono fatte verso laura bassi o altre altre studiosi altre donne studiose dell'epoca in quanto filosofesse agnesi ne è un po fuori perché lei non gli interessa più se si è tirata fuori però è ovvio che anche per lei continuare in quel ruolo sarebbe stato difficile se questo questo è un ragionamento che si può fare perché la credibilità di una donna matematica diminuisce col nel corso della seconda metà del settecento tant'è vero che alla fine come come accennavo si mette tranquillamente in questione che una donna abbia scritto quel libro perché è troppo lucidamente organizzato no quindi lei in qualche maniera diciamo non è parte di questo scontro però c'è questo scontro che comunque rende 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 difficile su il medico olandese scusa si me goldoni si adesso il sonetto non non me lo ricordo ma di sicuro goldoni mette un riferimento ad agnesi in una sua commedia che è il medico olandese e c'è questo paziente che aspetta di vedere il dottore e arriva una la servetta che pulisce la stanza e cerca un libro e cerca un libro di analisi e allora questo paziente dice ah ma perché che cerchi il libro di analisi fai per la mia padrona ma come la tua padrona legge libri di analisi e le fa sì sì certo è questo libro l'ha scritto una donna non l'ha scritto un uomo e gli fa una tirata no su come le donne si possono appassionare di matematica e questo qua finisce un po sgomento dicendo mamma mia se questa è la serva di una di qualcuno chissà questa padrona come sarà no e finisce il capi finisce la scena con questo quest'uomo lasciato sgomento quindi sì lui è ovvio che che ha questi questi gesti anche di omaggio no verso verso agnesi come hanno alcuni altri autori dell'epoca il uno dei primi romanzi italiani di pietro chiari 1753 si intitola la filosofessa italiana che non non cerca di ricostruire agnesi in particolare però ovviamente si sta riferendo a questo fenomeno che agnesi in persona forse nella maniera più più classica poi da lì il termine ha anche un un'inflessione ironica cioè filosofessa è anche un termine che viene coniato per prendere in giro fin dall'inizio un po queste queste donne no eh però in qualche maniera come come spesso succede viene poi abbracciato da da quelli che sono l'oggetto dell'ironia iniziale no e quindi viene diventa poi di uso comune grazie mille grazie c'era un intervento di claudio anche sì grazie se posso anch'io volevo ringraziare molto massimo e una curiosità che ho da quando ho letto il libro e mi ha molto colpito questa categoria e che tu usi del dell'illuminismo cattolico no e ne hai accennato anche nel oggi eh citando il Papa Lambertini nel libro sottolinea anche la figura di muratori no che rientra in questa in questo contesto e mh ecco volevo chiederti in maniera appunto più informale rispetto a un testo scritto e che idea ti sei fatto cioè è come dire è una battaglia di retroguardia che in qualche modo poi si arena e va avanti poi all'illuminismo del caffè come dicevi dei beccaria dei verri eccetera oppure poteva essere un'altra storia diciamo cioè c'è stato questo momento in cui come dire poteva poteva vincere ecco poteva segnare il settecento e invece poi senza spegnersi come invece si è spento e come 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 ci hai raccontato ecco chiaro la storia non si fa con i sei mi rendo conto che è una domanda ingenua però ecco così a voce te la volevo te la volevo porre sì sì no questo è ma sei il di solito questo momento è inquadrato in con la categoria di pre illuminismo no per esempio il modo in cui venturi nella sua grande ricostruzione dell'illuminismo italiano che poi diventa un po il paradigma del dopoguerra paradigma storiografico il momento di muratori è il momento del pre illuminismo in cui c'è questa sorta di secondo venturi è una sorta di illuminismo debole no bisogna aspettare poi gli anni sessanta per avere i quelli che arrivano invece più radicalmente no appunto beccaria verri tutta quella generazione lì e allora lì c'è l'illuminismo compiuto ecco io contesto un po questa questa lettura del che è molto teleologica ovviamente no perché c'è un'idea di illuminismo come dovrebbe essere tutto quello che lo precede che non è proprio così è una versione incompleta no secondo me non è il modo giusto di inquadrare quello che sta facendo muratori o che stanno facendo intellettuali meno famosi che sono quelli che magari fanno parte del circolo degli agnesi ossia loro si rendono conto che serve con un confronto con le scienze moderne questo confronto deve avvenire anche a livello pedagogico devono essere introdotte nei curricula dei collegi e delle istituzioni religiose come fare avvenire questa cosa e muratori da delle indicazioni metodologiche importanti no con una sorta di armonizzazione ovviamente comprendendo che c'è una gerarchia della conoscenza molto precisa però all'interno di questa gerarchia e della quella che muratori chiama la moderazione della ragione no cioè deve essere una ragione che si sa moderare no questa è il però questo appunto come come accennavi già tu un po' nella tua domanda la vedo come una via una possibile via verso una modernizzazione no del della cultura in chiave cattolica è piuttosto vivace interessante nella prima metà del secolo trova il suo campione più famoso in benedetto quattordicesimo dalla morte di benedetto quattordicesimo direi che questa opzione culturale politica poi svanisce fallisce non non è quella la direzione in cui si sta andando il dialogo è molto più estremizzato e anche le le alleanze politiche che la stavano supportando vengono a mancare quindi diciamo è un po' un una proposta culturale diremmo noi che che fa parte di un momento perché ci sono certi equilibri e poi quando questi equilibri vengono a mancare crolla però appunto gli darei un po' più di dignità che no dal punto di vista culturale no che non di essere semplicemente una una versione incompleta di quello che avverrà dopo in realtà un progetto piuttosto diverso ha poco a che fare con quello che poi gli illuministi milanesi saranno interessati tant'è vero che che una figura come Agnesi è totalmente estranea a questo altro no illuminismo che che poi si si costruisce grazie grazie mille ok ho visto poco fa che c'era una mano alzata di Edoardo Balli non so se vuole intervenire l'avevo tolta chiedevo solo eventualmente quanto ci ha messo a scrivere il libro perché alla fine di un lungo periodo di lavoro è naturale cambiare insomma quindi potrebbe essere una soluzione voglio chiedere quanti anni sì beh è stato sono sono stati circa otto anni di lavoro questo è più che sufficiente conosco comunque di persone che sono andati finito l'opera magna sono andati sono ritirati a fare qualcos'altro o in pensione subito in prepensione subito sì quindi è più che sufficiente per sono d'accordo per cambiare pagina per esempio tra gli alerti funzionali sì 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 no è stato un lungo lavoro per lei ovviamente che ha assorbito tutti gli anni 40 fondamentalmente fino al 48 quando il libro esce e poi appunto il bello che a quel punto lei ha anche un'offerta di lavoro no se vogliamo questa questa cosa stranissima che lei non considera neanche anche quello interessante perché evidentemente non non sta pensando alla carriera matematica come un'opzione non credo la discuta neanche mai cioè probabilmente risponde gentilmente a questo a questo invito ma finisce mi viene in mente un'altra cosa sulla questione delle conversioni che come sulla questione dei manoscritti e delle due identità ho pensato spesso a Newton non Newton alchimista e religioso piuttosto che Newton scienziato anche in questo caso mi viene in mente che è stato spesso argomentato che Newton avrebbe potuto avere una crisi a un certo punto e quindi comincia a fare l'alchimista perché da fuori di testa o a una crisi mistica che era parte della della biografia tradizionale di come si poteva dare un senso a questa strana figura no una volta che i manoscritti sono venuti fuori e quindi l'idea di avere una conversione risolutiva un momento di crisi è comoda storiograficamente in realtà ti aggiusta il problema un po' no? Dice vabbè è come se fossero due persone diverse in realtà quindi ecco cercavo di resistere quel tipo di soluzione ok grazie mille quindi diciamo che stiamo avvicinando alle 6 quindi ringrazierei nuovamente Massimo da parte di tutti direi grazie a voi